l'agricoltore non si lamenta quando vede il frumento dissolversi ma fino a quando lo vede restare immutato nel terreno teme e trema se poi lo vede dissolversi si rallegra la dissoluzione infatti è il principio della futura messe così anche noi rallegriamoci quando cade la nostra casa corruttibile ossia nostro corpo quando l'uomo viene seminato nel terreno non meravigliarti se l'apostolo chiama seminagione la sepoltura anzi questa è la migliore seminagione dell'uomo a quell'altra seminagione ossia la nascita dell'uomo seguono la morte la fatica i pericoli e le preoccupazioni a questa se viviamo rettamente la corona il premio a quella ossia la nascita la corruzione la morte a questa l'indistruttibilità l'incorruttibilità e mille beni in quella seminagione alla nascita vi sono amplessi piaceri e sonno in questa solo una voce che discende dal cielo e tutto in un momento è compiuto e chi risorge non ritorna più in una vita piena di sofferenze ma in una vita in cui è escluso il dolore il travaglio e il pianto se tu cerchi aiuto e protezione se per questo ti lamenti dell'uomo rifugiati nel protettore nel difensore nel benefattore comune di tutti in dio alleato inespugnabile aiuto pronto riparo durevole che è sempre presente e da tutto ci protegge